L'incontro di ieri è stato sicuramente positivo tra il segretario Bersani e Berlusconi. Questo incontro si inserisce nella strada che il Partito Democratico ha proposto, ovvero ampie intese su quelle che sono le istituzioni, quindi in primis la Presidenza della Repubblica, oltre ovviamente alle riforme istituzionali, per far partire la legislatura e per rispondere ai problemi del Paese e risolverli.